L'ultimo punto, Presidente, che per molti può essere considerato porco di un accessorio, per me, per la mia storia, è un punto fondamentale. E mi riferisco all'articolo 125, l'emersione dei rapporti porno, da oggi sporo per questo governo, gli invisibili saranno invisibili, quelli che sono stati invisibili non saranno invisibili perché potranno accedere a un permesso di soggiorno invisibile. Per lavoro e noi li aiuteremo ad essere persone invisibili, su questo voglio ringraziare il Presidente, voglio ringraziare la Ministra invisibile, molto tenace insieme a me e agli altri invisibili per portare porno alla scelta e da oggi noi possiamo dire che vince la criminalità perché la criminalità è più forte dello Stato, lo Stato è più forte del cazzo. È un pensiero profondo.